Continua a lavorare dall'alto della classifica di Serie B la Cremonese, intanto occhio alle avversarie che come racconta il difensore Sernicola sono tutte attrezzate per fare bene. Siamo carichi per il finale di stagione, pensiamo partita dopo partita come delle finali e quindi cerchiamo di fare del nostro meglio in ogni gara. Sono tutti fortissimi perché in Serie B sappiamo com'è il campionato, è equilibratissimo e quindi in questo momento pensiamo alla regina che sarà fondamentale per noi e per la stagione. Una formazione dal bel gioco e spensierata, il merito è di mister Pecchia. Quest'identità ce l'ha data il mister, di giocare liberi, spensierati, nonostante le pressioni comunque sia di uscire sempre bene dalla situazione di gioco. E quindi diciamo che questo è un po' il nostro marchio di fabbrica, di giocare sempre la partita ad alti ritmi, con la mente libera, perché secondo me per fare grandi cose se non hai la mente libera è difficile giocare bene. L'amaro in bocca per le eliminazioni dei mondiali si sente anche nei grigiorossi. Bisogna puntare su ragazzi giovani italiani, che ce ne sono tanti veramente bravi, l'hanno dimostrato i ragazzi del Sassuolo. Il Sassuolo è una realtà che fa stare sereni i ragazzi, dà serenità, non ci sono troppe pressioni e ne sono usciti tantissimi. Per quanto riguarda l'uscita della nazionale, dispiace tantissimo da tifoso della nazionale. Quindi cercheremo di rifarci ai prossimi europei e mondiali.